Le ho presi tutte e due, una è attaccata all'albero e li sta guardando, l'altra invece gira. Ma io non vedo che l'ha presa, l'ha presa, l'ho vista io, non ce l'avevo in bocca, ma vedo anche io, se la sta mangiando, ma non lo sta interando. Certo che questa amma al futuro ci pensa proprio. Papà fra poco le deve andare a comprare le nocciole. Noi stanno lasciando i pacchetti e li va accattando un'altra migliore. Facciamo il cinema. Facciamo il cinema. Grazie. 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 Grazie.